Ragazzi, lo scorso video, gli scorsi video hanno raggiunto una roba come 5.000 commenti per il mio nome da rapper dietro la vita in città Quindi grazie a tutti quanti, mi raccomando in questo nuovo video dobbiamo superare i 12.000 mi piace Saluto Alessia, Sofia e Thomas, scrivete nei commenti il hashtag minecraftita per essere salutati nel mio video se siete nuovi Iscrivetevi al canale con il tastieros qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche E superiamo gli 8.000 mi piace per un nuovo video su minecraft Ragazzi, benvenuti a questo nuovo video della vita in città, allora, oggi come sempre dobbiamo portare a termine i nostri classici compiti da pompiere Parliamo con Chris appunto per iniziare con un nuovo lavoro, ma mi raccomando Iscrivetevi al canale col tastieros qua sotto, premettere, molto importante se siete nuovi Attivate la campanella per non perdere nessun video, visto che stanno uscendo sempre due video al giorno, tutti i giorni Uno alle 3 e l'altro come sempre alle 7 e mi raccomando, lasciate un mi piace Allora ragazzi, prendiamo il nostro compito di oggi da Chris È urgente! Non so chi sia stato, ma qualcuno continua a piccare incendi in giro per la città Corri a spegnere e scopri chi è stato questo pazzo Ragazzi, ma non abbiamo neanche un minuto da perdere oggi Abbiamo degli incendi in giro per la città da spegnere Allora, partiamo... Ok, già vedo gli incendi, prendiamo con Pablo Marco, come va? Tutto bene? Che bella giornata... Ma questo qua è pazzo, ragazzi! Cioè, mi dice, che bella giornata tranquilla Perché non indossi mai la tuta che ti ho regalato? E perché sei così di fretta? Pablo, ci sono degli incendi, ma che tuta mi hai regalato poi Ancora questa qua da Bob Cioè, io già ce l'ho alla schim... Ma non lasciamo perdere, ragazzi Andiamo a prendere la nostra macchina da pompiere Che anche se non è rossa Ma l'incendi da quanto vedo sono tutti quanti in questo parchetto Anche su quel palazzo No, no, fermi, 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 fermi Spegniamo tutto quanto, anche là in alto Allora, prima ragazzi Dobbiamo andare a vedere se ci sono ancora le scale di sicurezza Che ho messo intorno a quel palazzo Ma dobbiamo muoverci e spegnere subito questi incendi Soprattutto dobbiamo aspettare e controllare Che non divampino in giro No, ragazzi Pure nella zona di Stai Fere dove vendono i loro mobili Allora, no, 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 calma, calma, calma Qua c'è da spegnere tutto quanto, super in fretta Ma ragazzi, ma chi può essere stato? Qualche, ehm, non mob Qualche personaggio in giro per la città Veloci, veloci, veloci Prima che tutto il parchetto prende fuoco E poi ci picchiamo perché non facciamo il nostro lavoro Allora, con calma Abbiamo tipo un minuto di tempo Prima che le fiamme divampino in giro per la città Allora Ma pensiamo, ragazzi Chi potrebbe essere stato? Non lo so Ma almeno stiamo gestendo molto, molto bene Queste fiamme in giro per la città Ok, qua il parchetto mi sembra tutto quanto Oh, no C'è neanche uno qua No, anche sul palazzo qua No, ragazzi, calma Veloci Dicevamo Chi può essere stato? Perché ovviamente i nostri amici non possono essere stati Non sono mica matti Prendiamo anche le nostre scale E saliamo sopra il palazzo Guardate che bravo pompiere che sono Che riesce ad organizzarsi Ma quanta roba ha acceso sto pazzo Quindi Chris ha detto che c'è qualcuno Che ha piccato direttamente un incendio A meno che magari è divampato per colpa tipo di una sigaretta buttata Nella... Io non devo parlare Devo andare a spegnere anche quell'incendio Anche questo Allora Facciamo una pazzia Ok, saliamo Scale Scale Devo muoverci Per favore Dicevo O può essere stato un errore Ma Chris ha detto direttamente che qualcuno è stato a piccare l'incendio Questa cosa qui è molto strana Ok Abbiamo anche le scale tecniche Che niente già piazzate dall'altra parte della casa Non devo prendere danno Perché se no moriamo malissimo Quindi dopo devo chiedere in giro A qualche passante se ha visto qualcosa Perché a questo punto viene da pensare O è stato un errore di qualche passante appunto Oppure può essere stato qualche personaggio cattivo Non lo so ragazzi Perché metti in caso che è passato Yuri Così dal nulla A dar fuoco Non lo possiamo sapere ragazzi Partiamo subito in azione Comunque Non si salta nulla qua nella vita in città ragazzi Subitazione per il nostro pompiere migliore del mondo E anche costruttore Anche se gli manca Costruire case Fare mobili Disfare Tutto quanto Allora Spegniamo per bene Aia Non devo prendere danno No sto per morire ragazzi Sto per morire Avete mai visto un pompiere così nella vita in città Che prende fuoco Ovviamente no Però Ok abbiamo metà vita metà cuore Allora qua Spegniamo No c'è un cuore Ste dannate fans Ok sento anche un allarme Credo che sia un allarme della casa Dov'è? Ehm Continuo a sentire questo rumore di allarme Che mi sta facendo veramente impazzire Non capisco da quale lato Mi sa che dovrò togliere il rumore di Minecraft Perché è veramente insopportabile Non capisco neanche dove sia ragazzi Allora Mi sembra A questo punto A aver spento Tutti quanti gli incendi in giro per la città Allora controlliamo qua Se i mobili stai a fare Sono tutti quanti a posto Giusto A fare Secondo i giorni imperdibili Ok no Qua mi sembra veramente Tutto ok Poi controlliamo Se qua in giro ha preso fuoco qualcosa Di polipanchino O quant'altro Ma anzi Controlliamo se sono utilizzabili Sì e tutto quanto bene Ok Le scale lì c'erano Hanno retto Anche le scale qua Non so perché L'ultima volta non ho piazzato le scale Anche per questo palazzo Anche perché A livello di sicurezza appunto Sarebbero servite Nel caso fosse successa una roba Come oggi Non ho controllato Se gli alberi Hanno preso fuoco Però mi sembra che per ora La situazione è tutta quanta Molto Ma molto Tranquilla C'è da capire però Se è stato qualcuno Allora Facciamo una cosa ragazzi Prima di Chiedere ai passanti Se hanno visto qualcosa Noi come sempre Nella vittoria dovevamo prendere I nostri soldi Che sono il nostro stipendio Giornaliero qua da 200 E in più Visto che abbiamo fatto un lavoro Qua c'è della polizia Anche Ah ragazzi L'altro giorno mi avete detto Che ho consegnato anche Dentro la casa di Andrea Una televisione Ho sbagliato A questo punto Voglio chiedere ai poliziotti Se possono andare a prenderla Perché ho molta paura Dato che mi avete detto Che Andrea è una persona Molto rosca Allora Andiamo dal sindaco Sitte chiediamoli Anzi parliamo Dicendoli che abbiamo spento Comunque un incendio Allora il sindaco ci dice Bravo Marco Per ora abbiamo spento Questi incendi Ma Dovevamo scoprire che è stato Ecco i tuoi soldi E qua abbiamo con noi 300 Quindi comunque Nella giornata di oggi Abbiamo preso 500 euro ragazzi Come ne è Per niente male A livello di paga ragazzi Per ora abbiamo 1725 euro Da spendere in qualche modo Perché comunque vi ricordo Che posso prendere i mobili Qua e là Magari chiedere a se Fere qualche mobile Anzi Mentre andiamo a intervistare A indagare Su chi è stato Ad appiccare l'incendio Controlliamo anche Che i mobili sono in vendita Ma qua ho visto un ragazzino Vestito di giallo Che magari può dirmi qualcosa Per caso tu sai No perché scappi Eh sei stato te Per caso Tu sai per caso Chi è stato a dar fuoco Alla città Parliamoci Vediamo se interagisce con noi Incendio Io Non sono stato Non darmi colpe Senza il mio avvocato Non parlo Ok Stai calmo Sono solo un pompiere Vestito da rapper Quindi puoi anche Stare calmo E rilassarti Ragazzi Comunque la gente In questa città In questa periferia È molto strana Allora Proseguiamo da questo lato Lei il signor vecchietto Sa qualcosa Lui neanche vuole parlare con me Vabbè Assomiglia un pochino Andrea Quello comunque Proseguiamo sempre Per questa strada Allora dicevo Non può essere stato Nessuno dei nostri amici Ragazzi ovviamente Però vediamo Salvi sono un pompiere Per caso lei Ha visto qualcosa Qualcun altro Incendio in giro Per la città Neanche mi guarda questa Allora Non mi fido molto Del fatto che lei Sia un pompiere Però vabbè Ho visto un ragazzo Con i capelli rossi Girare con un acciarino In mano Per la città Poi non ho visto Nient'altro di strano Capelli rossi Ehm Grazie per Per avermi detto Questa Ragazzi capelli rossi Ma non mi starete Steph ha capelli rossi Capelli rossi Ragazzi È molto strana Questa cosa Che una persona Certo che C'è un ragazzo Che capelli rossi Che stanno in giro Per la città Con un acciarino in mano Però vabbè Fa niente Allora È comunque Una testimonianza Allora Qua ho visto Un altro ragazzo Con Cos'è Un cappuccio blu Un vestito blu Parliamo anche con lui Vediamo Oh Adcal Si chiama Ho visto che è un ragazzo Vestito tutto di grigio Con un ciuffetto giallo Aveva un acciarino in mano Poi non ho visto altro Se non fiamme In questa zona Scusatemi ragazzi Ma questo ci dice Che il ragazzo Con Con l'acciarino in mano Aveva un ciuffetto Giallo Vestito grigio Marcia ha un ciuffetto giallo Ed è vestito grigio Ma qualcuno Ci sta prendendo in giro Ragazzi qua È molto strano Vediamo se c'è qualcuno In giro ancora Che ha qualche Anzi tipo questa ragazza Che sta tocchiando La mia macchina da pompiere No lei non parla con me Lei non vuole parlare Vediamo se c'è qualcuno Visto che c'è un ragazzo Che sta facendo pure Il bagno nella fontana Ma vi pare normale Ma esca da lì Non si può fare il bagno Nelle fontane pubbliche No neanche lui ragazzi parla Qua non c'è nessuno Nessuno che fa il bagno Nello stagno Vabbè Ragazzi Cioè è come se ci avessero detto Che praticamente i nostri amici Hanno dato fuoco Alla città Ma è impossibile Non è vero questa cosa Vuol dire Che potenzialmente C'è qualcuno che si traveste Come i nostri amici E che sta dando fuoco In giro per la città Per depistare il fatto Che sia lui Che non vuole farsi vedere Questa cosa è molto pericolosa Perché è ancora peggio Perché è molto più difficile Trovare chi è stato Questo delinquente A dar fuoco in giro per la città Intanto quella persona lì Continua a fissarmi Ogni volta Avete visto che ero nascosto Dietro A questa zona qui Dietro alle Come cavolo si chiama Mi dice spugli E lui mi fissava Si è proprio alzato dalla piscina Ok Lo sappiamo ragazzi Questa sera Un sacco di misteri E dobbiamo sempre scoprirli Comunque dicevo Controlliamo che mobili hanno Staveferi qua in vita Agli affari del giorno imperdibili Allora Da quanto vedo qua C'è una bella lampada Questa potrei comprare Anche questa libreria È molto bella Sapete che potrei Facciamo una cosa Volete che compri Dei mobili da Staveferi Ragazzi Dittemelo questo nei commenti Con il minutaggio esatto Magari ditemi anche A che prezzo Potrei contrattare Quella libreria Facciamo così Segnatemi il minuto esatto In questo momento Scrivetemi nei commenti A quanto potrei comprare Questa libreria da Staveferi Ovviamente ragazzi Prezzi logici Non mi sparate 4000 euro Perché sono Staveferi Mi raccomando Ok Comunque la nostra missione Ragazzi in realtà Non è ancora finita Perché ho letto Uno dei vostri commenti E ho notato Che molti mi dicevano Marco L'ultima spiaggia Per andare a controllare Dove sono finiti I tuoi soldi È andare Nel famoso bunker Dell'IKEA Dove tu facevi le intro Per spammare le cose Quando vi dovevi fare Il sindaco Queste cose qui E lì ragazzi In realtà Non ci ho mai pensato Ad andarci Perché ovviamente È dentro l'IKEA E cosa dobbiamo fare ragazzi Qua stiamo attenti Perché qua ci sono le guardie Che controllano A casa di March Guardate come me l'ho guardato Ragazzi Me l'ho guardato malissimo E devo per forza Ripassare Dal bunker Del nostro amico Qua sotto Perché ovviamente Non posso passare Frontalmente Dall'IKEA Ogni giorno Anche perché ragazzi È pieno giorno Quindi dobbiamo stare Molto attenti Ora scendiamo Andiamo direttamente Dal sottopassaggio Qua dell'IKEA E poi Entriamo direttamente E controlliamo Se nel bunker Che abbiamo Sotto Sotto alla zona Dove appunto Ci sono televisioni I nostri manifesti Dentro lì magari Nascosto i nostri soldi Perché pensavano Qua Marco Sicuramente non può venire Qua Marco sicuramente Non può entrare E poi ragazzi Non so più dove aspettarmi Dove hanno messo i soldi L'unico mio timore È che le abbiano presi E le abbiano nascosti In banca Questa cosa qui Mi preoccupa veramente Un sacco Perché sono tipo Un milione e mezzo Di euro Eccoci qua Allora non facciamoci notare Sicuramente a Corrado Che sarà al bancone Quindi facciamo molto In fretta Pensiamo qua Buongiorno Oh non c'è nessuno Non c'è nessuno Ragazzi Molto strana Questa cosa Ragazzi Allora con molta calma Perché non c'è proprio Veramente nessuno Non c'è neanche Giada Ed è pieno giorno Fuori Hanno licenziato Tutti quanti Dopo il furto Che abbiamo fatto Nello scorso video Può essere Può essere Può essere Allora controlliamo Vedo una cesta Innanzitutto Qua ci sono ancora I miei manifesti Qua c'è ancora Ci sono ancora Due imprenditori I vecchi imprenditori Storici ci sono Magari sono stati amici Dei nuovi capi Che bella Che era questa zona Ragazzi Era bellissima Io che spamavo Le live Votate i market Per una città più bella Allora Qua Qua c'è un 64 64 Ragazzi potrei rubarlo Ma non mi fido Perché in realtà Qua dovrebbe essere Tecnicamente Un milione e mezzo di euro Questi soldi qui Non sono miei Tecnicamente Quindi li lascerò Qua dentro Ci sono soltanto mobili Non ci sono altre ceste Nascoste qua e là Vero Allora voi non avete visto nulla E mi raccomando Però da quanto vedo Non ci sono neanche Passaggi segreti Dietro ai mobili Dietro le ceste Non c'è niente di segreto Ancora ragazzi Quindi Non sono neanche In questa zona Voi continuate a scrivermi Nei commenti Secondo voi Dove potrebbe essere Il mio milione e mezzo di euro Però Purtroppo Non è neanche qua ragazzi Magari dietro questa porta Ovviamente ci sarà Il muro giallo E ovviamente ragazzi C'è il muro giallo Ok Neanche qua all'esterno magari Sotto la jacuzzi No non c'è niente ragazzi Allora Qua abbiamo perso Il mio e mezzo di euro Dobbiamo sicuramente Trovarli Ma non sappiamo Nemmeno ragazzi Dove poter cercare Sta cosa qua Mi preoccupa Veramente Un sacco Perché a furia di pensarci Sono veramente troppi soldi E il fatto che io Ho soltanto 1720 euro In mano Praticamente Dentro il mio portafoglio Mi preoccupa Veramente Un sacco Non lo so Dove nemmeno pensare Giusto assieme ragazzi Comunque Spero che questo video qua Della vita in città Vi sia piaciuto Mi raccomando Vi lasciate un bel Mi piace Un bel commento A iscrivervi al mio canale Se ancora avete fatto A scegliere uno dei video Qua davanti Mi raccomando ragazzi Ditemi qua sotto Nei commenti Secondo voi Dove potrebbero essere I miei soldi E molto importante Scegliete uno Dei video Qua davanti E se siete nuovi E ancora lo avete fatto Premete attenzione Su qua sotto E iscrivetevi Da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao